Sabato 16 dicembre ci sarà un concerto a favore di Ado della Big Solid Al Band presso la Sala Estense di Ferrara dove ha una doppia valenza questo concerto qua. Innanzitutto come prima è il quattordicesimo anno che suoniamo per Natale a favore di Ado, quindi ricavato venteramente ad Ado. E poi per ricordare un caro amico che è il frontman nostro, è stato un po' il cuore, il motore della Big Solid Al, che è Carlo Merighi che purtroppo è mancato quest'anno, quindi più che altro è dedicata interamente proprio diciamo a lui la serata. Serata che per il quattordicesimo anno ci vede partner dell'Ado presso la Sala Estense per un concerto che alla fine è benefico come è stato negli anni precedenti. Ormai di strada ne abbiamo fatta tanta, 14 anni, il prossimo anno e il quindicesimo anno abbiamo cominciato ormai lontano 2009 e quasi una scommessa perché tenere insieme 13 persone, non tutti i professionisti, in una band che ha girato Lombardia, Veneto e l'Emilia per una discreta parte di territorio è stata una scommessa che al giorno d'oggi possiamo dire vinta e questo lo dobbiamo anche a quello che è stato uno dei fondatori nostro Carlo al quale è dedicata la serata. La serata si terrà a presso la Sala Estense in presso municipale alle 20.30 dove ci sarà qualche ospite, ci sarà il figlio che ha piacere di fare qualche pezzo con noi anche perché lui ancora in gioventù è partito in pratica a sovare con noi, quindi sarà il figlio, quindi sarà una serata abbastanza emozionante da parte nostra e anche da parte loro sicuramente. Noi siamo nati come tribute band dei Blues Brothers, quindi facciamo rivivere la musica immortale del celebre film di John Landis al quale abbiamo aggiunto anche altri brani sempre della miglior tradizione soul e rhythm and blues e niente, in giro si fa fatica a trovare una band con una sezione fiati composta da quattro componenti e una sezione ritmica di notevole valore. Chi vuole partecipare sì, il prezzo minimo 12 euro in ingresso, sempre a dado, i biglietti li trovate direttamente alla sede nuova dell'ado. In via Oriana Tallaci hanno inaugurato da poco la sede, quindi lì alla reception e all'ingresso ci saranno i biglietti di acquisto per la serata. Nodo al fazzoletto per il 16 dicembre, non bisogna mancare perché ritorniamo a calcare il palco della Sala Estense, che è una delle nostre sedi, potremmo quasi dire istituzionali.